buonasera a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovo video siamo oggi è sabato e con nello abbiamo deciso di andare a prendere ora vi spiego che cos'è da to good to delle box allora questa è un'app che ci può diciamo la potete scaricare l'unica cosa che dovete fare è avere una carta di credito perché altrimenti se non avete la carta di credito ovunque la paypal ha bisogno una carta di credito o prepagata non potete assolutamente comprare perché prima acquistate e c'è nel senso pagate e poi andate al negozio e acquistate quello che diciamo prendete la box che vi danno questa box per chi non lo sa poi per chi lo sa non è una novità e sono delle box in pratica che dentro non si sa quello che c'è ok quindi sono sorpresa c'è l'aiutante dietro che mi dice quello che devo dire sono delle box sorpresa quindi tu le ritiri e non sai quello che c'è all'interno ora quindi detto questo vado a spiegarvi un po questa qui l'abbiamo pagata 4 euro e 99 è una che cos'è non una rosticceria è una gastronomia quindi andiamo a vedere con 4 euro e 99 fate conto che allora già questa è calda quindi con 4 euro e 99 ci hanno dato tutto questo ora lo vediamo insieme non svinciare non svinciare non svinciare ora vi vado a dire cosa ci hanno dato allora la prima cosa è questa sono tutte guardate sono tutte di giornata una bellissima schiacciata morbida e calda ancora eh quindi è uno poi loro sono anche fruttivendolo cioè hanno un po' di tutto e di più infatti infatti ehm hanno la macelleria hanno un po' di tutto ci hanno dato anche dei finocchi ovviamente i finocchi una volta che si va a togliere la parte esterna si mangia tranquillamente la parte interna ad insalata ora non sono belli perché sennò ehm non ce li avrebbero dato insomma eh loro eh diciamo che ti danno lo scarto ora questa è una melanzana un po' però vabbè non si butta nulla si fa un sugo poi vediamo qui che cosa c'è ah un panino con i semi comunque morbido è di giornata anche questo ma questi sono caldi devi tenere fuori dalla carta eh? così ci vedono li metto fuori? si eh vabbè li ho fatti vedere ma li rimetto dentro per rimanere un po' a saldo poi abbiamo i contenitori andiamo a vedere in questi contenitori tenete presente che 4,99 euro l'abbiamo pagata la box ma quello che ci deve essere dentro deve essere di 15 euro quindi vediamo qui che c'è mamma nello le alette quelle che piacciono a me stasera mettiamo senza niente si c'era con le alette non ci posso credere poi vediamo qui no la pasta pasticciata la pasta al forno oh vai vedi abbiamo anche il primo oggi ah tieni lo scoperto io lo coprivo perché se no ci va la roba sopra poi in questa e qui altro che 15 euro siamo eh ah due 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 contenitori di pasta pasticciata va benissimo per due giorni va benissimo si si mangerà oggi domani e questo è quello con 4,99 euro che abbiamo avuto dalla gastronomia l'altra volta abbiamo avuto anche vabbè patate insomma vabbè comunque per la cena di stasera siamo a posto poi siamo andati anche in un posto non facciamo la pubblicità siamo andati in un posto che è pasticceria bar fa insomma anche da mangiare per il pranzo andiamo a vedere che cosa abbiamo preso quant'è che è costata questa box questa 3,99 euro a allora pizzette varie però le rimetto dentro nello sette varie perché sennò una due e tre queste ripiena ok 3 poi che solo queste va un euro e qualcosa luna brioche aspettate un brioche a volontà qui è un piatto prendiamo un piatto prendiamo un piatto e le mettiamo la brioche a volontà allora una due addirittura ananas qui queste sono di oggi 3,4 oh mamma mi si è rotta 5 mi si è rotta questo è buonissimo 6,7,8 brioche e sono tutte fresche prendiamo un altro piatto prendiamo un altro piatto prendiamo un altro piatto prendiamo un altro piatto che così facciamo vedere tutto quello che abbiamo acquistato con meno di 10 euro cosa abbiamo portato a casa tre pizzette qua vai che sono un po' secche e le rispaldate quindi abbiamo la cena il pranzo e la come si dice la colazione diciamo tutto questo per quanto hai speso Cecilia? 5,6,7 quasi 8 euro quasi 8 euro e per quanti giorni mangi questa cosa? oggi e domani tutto stasera si mangia perché poi bisogna mangiare per quante persone? e 4 questa è anche di più la pasta al forno qua voglia 1,2 cioè stasera si mangerà sicuramente le alette e le schiacciate e un po' di pasta al forno qui e poi domani si finirà questa per dire si può benissimo congelare se non si mangia questa si può benissimo congelare se non si mangia perché è fresca è proprio di giornata va bene quindi? quindi niente che vi devo dire io spero di avervi detto un po' tutto quindi a questo punto buon appetito a noi buon appetito a voi perché sono le 9 di sera perché queste box te le danno siamo andati a un quarto alle 7 a prenderle fino alle... no un quarto alle 8 e siamo tornati vabbè alle 8 e mezzo il tempo di sistemarci quindi niente vi saluto vi auguro una buona cena a tutti vi saluto con un grandissimo abbraccio un grande bacio ciao da Cecilia al prossimo video ciao ciao